Andare a letto con un uomo dopo i sei mesi, andarci a letto la prima sera, la seconda sera, la regola delle tre volte. No, la mia amica mi ha detto che Urano deve essere congiunto con Saturno. Tutte stupidate. Quando io vi do delle regole, fra virgolette, l'obiettivo non è la regola, l'obiettivo è come vi sentite voi dietro quella regola. Quella regola non è altro che un comportamento. Oggi parlavo con una donna, una bella donna, intelligente, profonda, con un sacco di argomenti. E quello che mi ha detto è, forse il problema, lui non si innamora di me perché sono troppo grande, sono vecchia, vecchia, tutto era meno che vecchia. Oppure non sono abbastanza. C'è sempre quest'idea di non essere abbastanza. Ma cosa volete che mi importi quando andate a letto con un uomo? Ma andateci a letto la prima sera, se vi va. La domanda che voi dovreste fare è che importanza state dando non a quell'uomo, ma a voi stesse nel compiere quell'azione. Perché se voi state davvero bene con voi stesse nel compiere quell'azione, allora poco importa cosa penserà il mondo, se quell'uomo si innamorerà o meno. Perché un uomo che si ferma ad una superficialità del genere del giudicare una donna, ma a voi che importa di quella persona? Ma è chiaro che se voi avete quel comportamento, perché voi non vi ritenete abbastanza, quel comportamento qualsiasi esso sia, che sia il messaggino in più, per paura di perderlo, che sia non dirgli qualcosa contro, per paura che lui si infastidisca. Beh, allora è chiaro che qualche regola ve la dovrò pur dare, ma non sono le regole la cosa importante. La cosa importante è come vi sentite voi con voi stesse, a prescindere da queste regole.